Ciao a tutti, io sono il Dilan Dogofilo. Oggi recensione dell'album numero 145, Il cane infernale, testi e sceneggiatura di Tiziano Sclavi e disegni di Franco Saudelli. L'avventura inizia con un prologo e qui si nota già la firma di Tiziano Sclavi, a me piacciono molto i suoi prologhi. Qui si vede un sosia di Dilan Dog, il signor Tornil, adesso scopriremo nella storia che cosa c'entra. Disegni di Saudelli che ricalcano molto bene la fisionomia di Rupert Everett, come sapete Dilan Dog è ispirato a Rupert Everett, ma allo stesso tempo gli dà una macella strana, non so come dire. Ad esempio qui vedete che Dilan sembra quasi che abbia un ascesso, anche qui sembra che sta mangiando qualcosa, una macella strana. Tratti molto da uomo, rappresenta Dilan molto da uomo, dei lineamenti molto secchi, però lo fa sembrare anche più vecchio. Dilan ha 33 anni ma in questa storia sembra averne 50. Saudelli lo rappresenta come un uomo proprio, con questi tratti molto incisi. Tiziano Sclavi, cosa vuole raccontarci in questa storia? Di che cosa parla il racconto? Innanzitutto il titolo, Il cane infernale, c'entra poco, perché come abbiamo già visto nella storia Caccia alle streghe, il titolo c'entrava anche lì molto poco. Graucio qui, parlo sempre dei disegni perché sono molto particolari, anche perché Saudelli non è molto solito disegnare negli albi di Dilan Dog, anzi io è la prima volta che lo vedo. Graucio sembra quasi una caricatura di se stesso, già Graucio è una caricatura, ma questa è una caricatura della caricatura. Non sono malaccio però sono disegni un po' particolari, si può dire, a me piacciono. Dilan viene incaricato da un falso maggiordomo per liberare il cane del maggiordomo che sembra posseduto, però non è vero. Tutta una scusa per far ricadere la colpa su Dilan di un disastro che sta succedendo. Adesso mi spiego meglio. Questo qua simpaticissimo cagnolone Sir Archibald III, che in realtà è un cane randaggio preso al canile, ma Dilan pensa che è il cane da, diciamo, fagli l'esorcismo. In realtà è un cagnolone simpaticissimo. Nel corso della storia lo aiuterà con le indagini. Dilan viene scambiato per il signor Tornil, che sarebbe questo signore qui, e viene rapito da quelli che lui definisce Blue Brothers. Sì, più o meno quello lì, quei due personaggi lì, diciamo. La mia pronuncia è alquanto discutibile. Viene rapito da questi due elementi. E che cosa succede? Il signor Tornil, sosia di Dilan Dogg, è implicato in una vicenda davvero, davvero molto importante. Il signor Tornil ha scoperto il DNA per rendere l'uomo immortale. E quindi questi signori fanno di tutto per rubagli, lo diciamo, per rubagli il progetto. Dilan cercherà di dire in ogni maniera che non è lui Tornil, che si sono sbagliati, ma loro ovviamente non ci credono perché lui e il suo sosia sono appunto due gocce d'acqua. Viene addirittura buttato nel fiume, proprio metodi da mafia. Il cagnolone va a salvarlo. E quindi una volta che Dilan viene salvato dal cane, dopo un po' capisce che il cane è normale, è normalissimo, e cerca di indagare su questi signori. Graucio, per la prima volta, è lui che risolve il caso. È lui che deduce, è lui che sviluppa ed è lui che conclude il caso. Davvero un graucio che per una volta si dimostra intelligente e produttivo. Invece, come sappiamo, il resto delle volte è solamente un pirla, però è davvero molto simpatico. Graucio è la spalla perfetta per un personaggio come Dilan Dog. In questo caso è lui, si può dire, il protagonista. Perché Dilan non ne caverà un ragno dal buco, così come Block. Per concludere, trova questa casa, questo qua è il covo dove è stato rapito Dilan, trova questi signori e capisce perché è stato rapito, appunto gli spiegano questa storia del controespionaggio e che cercano di rubargli il segreto, la formula dell'immortalità. Il falso maggiordomo in realtà non è un maggiordomo, quindi il cane non è appunto, come già detto, non è affetto da nessuna possessione. In realtà era solo una scusa per dare la colpa a Dilan. Infatti, siccome il signor Tornil sa di essere perseguitato, ha trovato il suo sos e cerca di mettere nei guai Dilan Dog per salvarsi lui la pelle. Alla fine della storia il cane infernale c'è perché Dilan, ovvero c'è in parte, perché Dilan come al solito si caccia nei casini più disastrosi, come al solito è quasi in fin di vita, ma riesce a salvarsi la pelle. È un classico perché questi signori lo ritrovano e lo rapiscono nuovamente, ma questa volta lo vogliono far fuori, ma vengono bloccati da il cane infernale, che sarebbe un quadro, il quadro che era presente all'interno di questa casa dove Dilan è stato rapito. Questa porta qua in realtà ce l'ava, davanti c'era un quadro che copriva questa porta qui. Però qui sembra anche il cagnolone di Dilan che diventa lui cattivo, quindi non ho capito se era il quadro ad aver sconfitto il cattivo di turno o se è proprio il cane Sir Archibald III che si è trasformato. Questa cosa qui non l'ho capita. Come in molti albi non si capisce quello che ci vuole comunicare Tiziano Sclavi, va reinterpretato in maniere differenti. Alla fine la storia si conclude con un buff, perché questo cagnolone abbaia talmente forte che fa vibrare tutte le cose, addirittura c'è una vignetta dove il maggiolino di Dilan si mette a vibrare, talmente fa casino. Dilan in questa storia verrà fuori il suo lato animalista, quindi si vedrà Dilan che vuole davvero bene agli animali. lo sgrida, però comunque gli vuole bene, ci tiene a questo cane. Come me, anch'io sono molto predisposto nel voler bene agli animali e quindi parla anche di Dilan dal punto di vista dell'amore verso gli animali. Una storia molto completa che vede appunto Graucio come... non so se esiste questo termine, ma io uso la licenza poetica. Graucio come risolvitore del caso, molto insolito, e la storia appunto ci mostra gli animali, che Dilan gli piacciono gli animali, e basta, non c'è di entrato da dire, disegni che a me piacciono. Il video è finito, se ti è piaciuto condividilo, noi ci vediamo alla prossima recensione dedicata al mondo dell'indagatore dell'incubo, speriamo meno confusa di questa. Ciao!